Buon pomeriggio, siamo rientrati, questione di pochi minuti, siamo stati di parola, ma il nostro tavolo si riempie di qualcosa di prestigioso, come vedete c'è una Coppa, una Coppa Italia importantissima che è arrivata qui a Catania, perché in Catania non si fa mancare nulla a livello di Coppa e di Scudetti, è arrivata una Coppa importantissima portata come vi abbiamo detto prima quando abbiamo annunciato che avremmo avuto la gradita visita del tecnico, del dirigente del WeSoccer Catania FC e abbiamo qui con noi il direttore Mario Giuffrida e l'allenatore Angelo D'Amico, buonasera e benvenuti e grazie per il vostro tempo qui da noi. Buonasera a tutti. Salvo vuoi intervenire anche tu per salutare? Sì, è chiaro che salutiamo con grande soddisfazione e piacere, anche perché siamo emozionati ad avere un trofeo, perché sempre di un trofeo è con i colori nazionali, ma è ancora più importante, vedete la bandiera italiana anche qui, capire che questo trofeo invece ha un profumo particolare perché è strettamente legato ai colori della nostra città, ai colori rossazzurri, allo sport catanese in generale. È un racconto che parte, se vogliamo, la storia è breve, nel senso che dall'anno scorso con questa nuova società che però prosegue le vicende di un'altra storica società di beach soccer all'americana, che è il canalicchio. E poi lo scorso anno ci sono state delle sinergie, c'è stato qualcosa, un incastro perfetto che ha permesso a questa società di crescere a livello esponenziale, grazie anche ad una sinergia che si è creata con la società Catania FC e quindi con Ross Pelligra, e si è iniziata questa avventura, un'avventura che nel giro di un anno ha prodotto il primo trofeo, molto importante, peraltro tutto di sapore rossazzurro, perché poi la finale è stata disputata a Torrefaro a Messina è una finale a fortissime tinte, marcatamente, come dire, liotro, perché avete affrontato e battuto la più titolata squadra di Catania. Questo, a dire il vero, è un vanto, un orgoglio per lo sport siciliano e catanese in particolare. Lo chiediamo subito al direttore. Sì, io come già è stato sottolineato più volte, questa è la cosa che più ci deve gratificare e deve farci pensare in positivo, perché se la finale alla fine della Coppa Italia è stata disputata dalle due squadre catanesi, vuol dire che Catania, negli anni, per merito delle strutture che si sono create e dell'organizzazione di tutte e due le squadre, è riuscita a diventare leader in questo sport a livello nazionale e probabilmente anche a livello europeo e mondiale. Siamo riusciti a portare Catania sicuramente ad altissimi livelli. Ecco, questo fatto dello sport su sabbia, il calcio poi chiaramente è la passione di tutti. L'Italia sogna il calcio dalla mattina alla sera, il calcio trasportato sulla sabbia per Catania appunto sembra che sia quasi un fatto naturale, ne abbiamo appena parlato del fatto che ben due squadre rappresentano il meglio di cosa si possa immaginare. Ecco, come vivete voi questo abbraccio della città? Quest'anno purtroppo vi siete trasferiti, purtroppo, è chiaro che si tratta di consentire uno sviluppo Messina è stata individuata per far sviluppare questo movimento del beach soccer ma Catania vi ha sempre avvolto con la presenza del pubblico importante. Io penso che la prima cosa che bisogna sottolineare è che comunque sia fisiologico, noi viviamo in un territorio dove c'è la sabbia più bella d'Italia, dove anche strutture industriali importanti come l'ST fanno del silicio che c'è nel nostro territorio il loro materiale principale quindi vuol dire che abbiamo la sabbia migliore d'Italia e non c'era soddisfazione migliore che essere leader negli sport in generale. Un'altra piccola cosa da sottolineare è che anche nel tamburello, negli altri sport da sabbia l'Italia, Catania è leader in Italia, quindi questo sicuramente nasce dal fatto che viviamo il territorio della playa giornalmente sin da ragazzi e questa attitudine, questa naturale capacità di stare sulla sabbia, probabilmente questo amore verso la sabbia ci porta ad ottenere questi risultati che poi sono figli anche di un progetto, sono figli anche della capacità di acquisire giocatori stranieri, di acquisire staff tecnico, abbiamo il mister qua, di rilevanza importante perché comunque la squadra è fatta anche di giocatori non catanesi, è fatta di giocatori di altro territorio nazionale, è fatta di staff del territorio nazionale ed è fatta di giocatori stranieri che poi alzano tantissimo le qualità e la caratura della squadra. E anche l'audience che si sviluppa, che ha il desiderio di vedervi. Tutto quello che si sviluppa attorno. E allora un attimo faccio una domanda all'allenatore, ad Angelo D'Amico, così facciamo parlare anche lui che è giusto. Ecco, ci spiega in poche battute cosa cambia rispetto al calcio che noi siamo abituati a vedere, al di là della spettacolarità e della velocità d'azione che è davvero una cosa che se non la vedi sul campo non la puoi nemmeno immaginare. Ecco, quali sono in breve le cose più importanti che un allenatore di beach soccer deve puntualizzare ai propri giocatori che chiaramente conoscono le regole? Però ecco, su cosa punta l'attenzione di un allenatore di beach soccer? Buonasera a tutti, scusate la voce, ma siamo reduci dalla tappa di Ciro Marina e vuoi o non vuoi, tre partite, ho urlato un pochino. Per dare qualche disposizione appunto. Perché dopo, come dicevi tu, si gioca con la musica, quindi a differenza del calcio già è impattante. Ma soprattutto la sabbia, quindi la sabbia rende ogni passaggio, ogni tiro sempre qualcosa di difficile da tenere sotto controllo per i giocatori, per il portiere soprattutto. Quindi già la superficie fa sì che sia uno sport completamente diverso. E poi naturalmente le dimensioni del campo, i giocatori, si gioca tipo il futsal con cinque giocatori, però è completamente tutto diverso. La maggior parte delle persone che approccia questo sport si innamora in maniera immediata perché è molto bello da giocare. E cambia anche l'approccio di ruoli che noi, il portiere per esempio, che molto spesso in zona tiro o tira pallonezzi incredibili da fuori, cose che noi non vediamo quasi mai nel calcio normale. No, però io penso che anche nel calcio qualcosa si sta sviluppando in questo senso, quando il portiere gioca sempre di più rispetto a qualche anno fa. Un po' stavazione, sì. Nel beach soccer sono qualche anno che questa cosa è... È un cardine del gioco proprio. Sì, abbiamo anche perché stiamo vedendo intanto le bellissime immagini, soddisfacenti per tutti noi. E poi abbiamo seguito in questi ultimi anni, ma soprattutto in quest'ultimo periodo, appunto l'evoluzione di alcuni ruoli. Anche perché non è raro, anzi è quasi ormai una prassi, vedere che è il portiere spesso a decidere magari la partita. Sì, nel nostro Catania, come io di solito sono abituato a giocare, il portiere per me è un punto importantissimo e fondamentale della squadra perché è come il playmaker nel basket. Detto ai tempi, gioca molto, calcio in porta e quindi abbiamo scelto quest'anno insieme allo staff dirigenziale, quindi direttore Giuffrita, direttore sportivo e la società, di gestire e soprattutto formare una squadra che facesse il tipo di gioco che io sono abituato a prospettare nel beach soccer. Ecco, lo chiedo di nuovo a Mario Giuffrita, per quanto riguarda il movimento che si sta sviluppando, dico in Italia perché poi in questo momento voi siete impegnati, siete nel pieno della stagione, c'è stata la seconda tappa proprio a Ciro Marina della Pullo Scudetto, allora prima lo chiedo di nuovo a Mario Giuffrita, com'è andata? Allora, vai Mario. È andata bene, è andata bene perché l'obiettivo nostro era tornare dalla tappa di Ciro Marina con la qualificazione acquisita e questo è stato portato a casa, i ragazzi hanno fatto tre ottime prestazioni al cospetto di tre squadre importanti perché la Pullo Scudetto, che è la pullo che noi affrontiamo, è un campionato di altissimo livello, te la giochi con tutte, le partite sono tutte equilibrate, quindi vincerle è veramente difficile, bisogna dare e mettere tanto di più rispetto agli altri sotto il profilo della voglia, dell'agonismo e del sacrificio. Il mister in questo è bravissimo, fa tanto in campo perché poi gli finisce anche la voce e siamo stati bravi, abbiamo portato a casa in termini di risultati l'obiettivo che ci eravamo prefissati, adesso ci aspetta la tappa di Lignano che è dove faremo di tutto per cercare di arrivare più in alto possibile in classifica per poi presentarci alle finali di San Benedetto da una posizione migliore possibile. L'importante era entrare nelle prime sette perché poi lì diventa un dentro fuori, è una partita secca e alla fine l'importante è stare nelle prime sette, noi già ci siamo dentro e di questo ne siamo orgogliosi, ringraziamo staff e squadra per averci già dato questo obiettivo che per noi era importantissimo. Io approfitto sempre della presenza di Mario Giuffrida che conosco da tanti anni perché è stato un grande istruttore di ragazzini e quindi chiedo una domanda molto pertinente, chiaramente in tutti gli sport oggi si fa grande attenzione ai vivai, anche voi suppongo abbiate un'attenzione a questo livello perché il meglio dei giocatori che avete disponibile un giorno possa dare qualche pensiero di scelta al mister, al coach, possa dire questo ragazzo interessantissimo merita di andare in prima squadra, col tempo chiaramente, con i giusti passi, ecco quale situazione registriamo da questo punto di vista? Allora noi sotto questo punto di vista facciamo un'enorme fatica, facciamo un'enorme fatica perché non è semplice avvicinare i ragazzi a questo sport, non è semplice in una fascia d'età precisamente perché finché sono i ragazzini e amano giocare, finisce l'inverno e ricominciano con l'estate e non guardano e non vedono la differenza, quando poi invece andiamo a toccare fasce d'età dai 17, 18, 19, 20 anni diventa un po' difficile, noi da qualche anno ci presentiamo a tutte le competizioni e a tutte le fasce, abbiamo l'Under 15, l'Under 17 con cui andremo a fare la Final Four per provare a vincere lo Scudetto, abbiamo l'Under 20 con cui andremo a fare la Final Four. L'Under 20 mi sembra sia un campionato relativamente giovane, è partito forse l'anno scorso? Da 4 anni, 5 anni, noi ci partecipiamo da sempre e per 3 anni di fila abbiamo lottato per la Coppa Italia o per il campionato e anche questa volta ci andremo a giocare la Final Four anche nell'Under 20, siamo presenti in 3 campionati su 4 per andarci a giocare le finali Scudetto, questo per noi è un motivo d'orgoglio, non è semplice, il mister ha in squadra due oggi veterani ma che hanno iniziato con noi 12-13 anni fa che sono Palazzolo e Randis, come si ritrova in squadra degli elementi invece che qualcuno ancora fa l'Under 20, vedi Giuffrido oppure Caltabiano che è un nostro orgoglio perché viene anche lui dal vivaio della nostra squadra e questo è quello che cerchiamo di fare, portare qualche ragazzo ad innamorarsi di questo sport. Il mister ha ragione quando dice che se poi ci giocano alla fine si innamorano, un pochino il fatto che finiscono i campionati invernali, hanno fatto tanti sacrifici d'inverno, un po' li frena, però una volta che poi li portiamo sulla sabbia e ci sono le mani sapienti di chi è competente poi li facciamo innamorare di questo sport. E il mister che Metro usa quando ha dei giovani a disposizione, come li plasma, come li fa crescere, che spazi concede loro, quali sono le sue linee di pensiero? Naturalmente a me piace molto lavorare con i giovani perché significa plasmare a livello caratteriale e tecnico tattico dei ragazzi che ti daranno sicuramente una mano se continuano a fare questo sport. Il problema che prima diceva Mario è naturale perché la maggior parte dei ragazzi italiani rispetto ai brasiliani, in Brasile ci sono ragazzi che fanno soltanto bici, 365 giorni l'anno. In Italia per nove mesi giocano a calcio. È un discorso stagionale in Italia. Bravissimo, perfetto. E quindi è un pochino differente perché io penso che in Italia se ci fossero giocatori che facessero questo 12 mesi l'anno, adesso siamo secondi e terzi nel ranking mondiale l'Italia perché ha vinto due europei ultimamente e è arrivata seconda al mondiale e perdendo contro il Brasile sarebbe sicuramente molto molto più alto il livello degli italiani. Proprio una concezione culturale, no? Purtroppo sì, ma anche di federazioni perché quando iniziano le preparazioni a luglio noi ancora stiamo nel pieno del campionato e molti giocatori preferiscono giocare in Leca Pro o Serie D che venire a fare le finali di Beach. La sottolineatura era nel fatto che in Brasile si inizia, in Brasile e in Sud America generalmente si inizia in spiaggia a giocare a piedi scalzi e poi si finisce in Champions League di campi di campo. E va bene, e quello ci sta, però alcuni continuano e fanno solo quello. Sì, alcuni chiaramente fanno solo quello. Cioè mirano una preparazione globale 12 mesi su 12 per quello sport. Fanno solo quello, solo quello. Poco fa si parlava del rapporto con i giovani, tra tecnico e giovani, il rapporto invece con appunto giocatori ormai giunti ad un certo livello consolidati. Naturalmente quello è già un po' più complicato. E già diventa più complicato. Sì, perché avere giocatori tipo quelli che abbiamo noi, che sono fortissimi, Bruno Chaviere è stato, è il giocatore più forte che ci sta in circolazione, ha vinto 4-5 palloni d'oro, ha vinto 3 mondiali, tutto quello che poteva vincere lui l'ha vinto. Naturalmente quando va a relazionarti con persone del genere o sai, o è complicato relazionarti con persone di questo tipo. Lui, Eudin, che sono brasiliani, poi c'è Giampietro, Jordan portoghese, un danese che è Axel Damm. Quindi ha a che fare con tante tipologie di persone, naturalmente come serve in tutti gli sport, ti relazionare in maniera giusta, parlare con loro, cercare di gestirli in una giusta maniera, perché ognuno ha un proprio problema, ognuno ha una sua disciplina che è diversa dalla nostra. Ma anche da culture diverse, caratteristiche diverse. Noi a differenza loro siamo molto disciplinati, molto impostati, loro invece vivono la giornata in maniera diversa, quindi venendo a giocare in Italia li devi un pochino plasmare. Però è veramente molto, molto, loro fanno, loro in questo sport ci hanno insegnato tanto e ci fanno fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Assolutamente. Bene, chiaramente qui stanno arrivando tanti saluti da parte dei nostri amici, sono contenti di vedere questa coppa, perché come dire, Catania abitua a prendere coppe, non tanto appunto da questo benedetto calcio che tutti percorrono in lungo e largo per tutto l'anno, ma da questi sport importanti che veramente sono, questi sono titoli di squadre, proprio squadre che nascono dal rapporto con la società, che è un rapporto proprio diretto tra società, dirigenti, staff, calciatori e portano queste soluzioni. Io chiedo a Mario Giuffrida, nello sport in generale, portare a casa un trofeo, in questo caso la Coppa Italia, quanto fa bene al movimento presente e futuro? Cioè nel senso che un trofeo da solo fa promozione allo sport. Abbiamo detto delle difficoltà, soprattutto delle, non dico delle giovanissime generazioni, ma degli adolescenti che insomma fanno, con fatica, ma debbo dire che questo è un discorso generale che ho sentito anche nel calcio. Cioè i ragazzi oggi a 16-17 anni non sono i ragazzi di 16-17 anni di 20 anni fa, quando ambivano a diventare calciatori, adesso vogliono diventare giocatori di primo ordine, oppure niente. Diciamo che oggi vogliono guadagnare. Diciamo che c'è un momento secondo me che è molto delicato nella crescita dei ragazzi, questo a prescindere dal bice socchero e dal calcio. Io, come diceva poco fa, ho fatto dieci anni nel settore giovanile del Catania. L'anno scorso, per metà anno, ho collaborato con Zeoli in primavera del Catania, mi è stata data questa possibilità dal presidente, dal vicepresidente, dal direttore russo e l'ho accolta con tanto orgoglio. Poi per motivi professionali e per scelte non è continuato, però per dieci anni ho fatto il settore giovanile sempre nel Catania e purtroppo c'è una fascia di età dove poi o sei forte come ragazzo a livello anche un po' mentale e cose, quindi il sacrificio hai voglia e continui a farlo oppure è quel momento in cui magari è un po' questo sport. Non dico che si abbandona perché io ho avuto modo di constatare che poi è difficile che abbandoni il calcio, ma che abbandoni quello che poi è la professionalità, di conseguenza gli allenamenti, il desiderio di continuare a stare sempre allenato al cospetto del fatto che magari uno esce, gli amici, la fidanzata, la ragazzina, le cose. Le distrazioni arrivati a una fascia di età aumentano e poi lì chi è più forte continua a seguire questo desiderio e magari poi la trafila la continua mentre c'è chi magari per strada si va perdendo. Purtroppo è una cosa naturale e non si ci può dare colpa a nessuno, c'è chi mentalmente è capace e continua ad andare avanti e c'è chi poi prende altre strade. L'augurio nostro come tecnici, come istruttori, come genitori in generale è che tutti comunque facciano dei percorsi di vita che li porti a realizzare poi o lavorativamente parlando o nello sport o i propri desideri. Poi la crescita di ogni ragazzo che magari ti ritrovi a 30 anni, che ha famiglia, che ha figli e che ha cose, è una soddisfazione perché magari che non sono diventati i calciatori probabilmente in quei 3-4 anni che li hai allenati e con cui sei stato in stretto contatto hai trasferito qualcosa che li ha resi uomini importanti. Anche la reazione ai momenti difficili diventa un benchmark da superare. Lì si vede certe volte di che pasta si è fatti perché i momenti difficili ti aspettano dietro l'angolo in ogni momento, nello sport come nella vita. Tornando al trofeo della domanda che ci aveva posto, per noi è un motivo di orgoglio vincere la Coppa Italia, per noi è un motivo di orgoglio sicuramente il premio, la Coppa Italia, il raggiungimento di un operativo così importante, apre sicuramente le porte a nuovi ragazzi, a gente che si avvicina. Il vincere e stare in alto sicuramente dà una visibilità, dà una sensazione di appartenenza migliore e sicuramente più profigua. Questo era un desiderio che con Di Benedetto ci portavamo, non solo col papà ma anche con Graziano, ci portavamo come sogno da realizzare e con i sacrifici e con i giusti accorgimenti ci siamo riusciti a portare a casa. Ad Angelo D'Amico, restando al racconto di questo trofeo, qual è stato il momento più difficile durante le sfide che avete combattuto lì a Messina, a parte la finale voglio dire? A parte la finale, il momento più difficile è stato quello, perché le sfide precedenti con Viareggio e con Pisa, prima Pisa e poi Viareggio, le abbiamo sostenute abbastanza facilmente, siamo passati in vantaggio, molto normalmente abbiamo gestito la partita senza molti patemi d'animo, 3-1, 4-1, quindi abbiamo la partita, è stata, scioltezza no, perché non è semplice giocare con risultati di certezza, certo, perché Viareggio sono campioni d'Italia uscenti, quindi è una formazione importante, Pisa ha vinto tutto negli anni precedenti fra campionato e Coppa Italia e noi abbiamo dovuto fare il percorso più difficile perché naturalmente il piazzamento dello scorso anno del Catania non è stato molto agevole perché erano arrivati mi sembra undicesimi lo scorso anno, si siamo entrati in classifica da noni, quindi prendi quelle che stanno più in alto di classifica, quindi fai un po' più fatica e poi alla fine abbiamo preso il Catania, con il Catania siamo andati sotto, cosa che non avevamo fatto nelle precedenti partite, quindi abbiamo dovuto gestire a livello mentale un fattore che noi prima non avevamo nelle corde, ma i ragazzi sono stati bravissimi, è stato veramente una grande partita, poi il derby a livello mentale uno lo affronta in maniera diversa, anche nella gestione, comunque il derby è sempre derby a tutti livelli, a tutte le latitudini. Sì, è il primo derby in una competizione nazionale, quindi è stata la prima finale, subito vinta non è semplice, io per vincere una finale sono passati penso dieci anni, dopo avendone perse otto, nove. È però belle soddisfazioni, no? Quindi sì, questo per me è l'undicesimo trofeo, quindi è vanto, vanto. A proposito di questo, anche questo alimenta e fa bene allo sport in generale, al movimento, la competizione tra realtà dello stesso bacino, della stessa città, no? E questo la dice lunga sul fatto che oggi Catania può puntare decisamente su due realtà che sono distinte, però che probabilmente hanno gli stessi obiettivi, non dico quello di vincere trofei, ma di portare avanti al meglio questo sport. Faccio a tutte e due la domanda. Sì, sicuramente il processo di crescita è positivo, nessuno fa qualcosa per non far crescere o per non far andare avanti gli altri, sicuramente la prospettiva è quella che tutte e due le società di grande caratura e di importanti guardano avanti con obiettivi futuri relativi a migliorare le proprie strutture e la propria società e quindi sicuramente questo percorso di sana competizione non può che far bene a tutta la città. Bene. Hai una quasi... No, è l'ultima battuta. Un minuto per anche per... Tutto questo trasferito in campo come funziona? È molto bello, è molto bello perché naturalmente sentire quella voglia dalla parte della nostra società di emergere perché essendo una società nuova vogliono cercare negli anni di stare sempre al pass e soprattutto di rimanere sempre ad alto livello e questa cosa non è semplice, porta tanti sacrifici, porta tanta organizzazione e soprattutto voglia sempre di migliorarsi. Va bene, siamo... Ci siamo, ci siamo. Con questa splendida inquadratura ancora una volta della Coppa Italia Beach Soccer, noi ringraziamo il direttore generale Mario Giuffrida e l'allenatore Angelo D'Amico, ringraziamo anche il presidente Di Benedetto che chiaramente non è qui con noi ma chiaramente il nostro saluto sicuramente va anche a lui e grazie per darci questa bella soddisfazione a noi catanesi e quindi forza We Soccer Catania FC, forza anche per le immediate manifestazioni che ancora vi aspettano, mi raccomando mister, la voce, riprendiamola subito e così. Un paio di giorni e torniamo subito a te. Perfetto, perfetto. Va bene, va bene, allora siamo davvero in chiusura. Il nostro appuntamento per lunedì prossimo alle 15, grazie a Salvo. Grazie Vincenzo, grazie a tutti per l'attenzione. Grazie a chi è stato con noi e grazie alla regia di Gaetano Ligreggi, grazie a nostri amici. Grazie e buonasera a tutti. Buonasera a voi, alla prossima, buonasera a tutti i nostri amici. Grazie a tutti.